Alla luce degli atti vandalici al Red Urbano di Corso San Giorgio, il consigliere comunale di opposizione Luca Corona torna a chiedere più telecamere in centro storico. Sì, continuo a chiedere più telecamere. Sono ormai quasi quattro anni che chiedo a questa amministrazione perché è un tema molto caro a me. Ripeto che l'assessore più volte ha ribadito di potenziare queste telecamere, ma oggi non vediamo nulla. Io nel mese di marzo 2021 ho posto 12 domande a questa amministrazione dove chiedevo il numero esatto delle telecamere, quali erano funzionanti. Lei non ha mai avuto risposte? Io ancora non ho avuto risposte. Ripeto che da regolamento sono 30 giorni, quindi erano il 30 di aprile, primo di maggio 2021. Siamo nel mese di quasi novembre e io ancora non ho avuto risposte. È un atto gravissimo. Sono stato costretto anche a scrivere al prefetto, però ad oggi non ho avuto risposta e ribadisco ogni volta questo concetto di una mancata risposta. In più, dopo i vandalici che io condanno, perché qualsiasi atto vandalico è da condannare più o meno grave, ripeto che sul Corso San Giorgio noi non abbiamo nessuna telecamera pubblica. Quelle riprese che sono state visionate dalla polizia sono telecamere di un privato e lo voglio rimarcare e sottolineare. Voglio rimarcare anche che la Fondazione Etica identifica questa amministrazione come una delle peggiori amministrate in Italia e si evince anche da questo discorso. Perché? Perché è una città accogliente, è una città anche sicura. Non si può avere un Corso San Giorgio di una città capoluogo sprovvista di telecamere. Sprovvista perché, ripeto, il Comune non ha nessuna telecamera installata lì. Abbiamo sei telecamere sul parcheggio di fronte a Globo della stazione e nessuna sul Corso San Giorgio. Quindi lascio a voi, cittadini, una sintesi sulla competenza di questa amministrazione.